Il pittore ha usato una composizione lineare per mettere in risalto la semplicità della scena, la tavola, l'apparecchiatura e l'ambiente, tutto è ridotto all'essenziale, tutto eccetto l'arazzo appeso alle spalle di Cristo che, con il suo disegno elaborato, attira lo sguardo di chi osserva sulla figura del Salvatore. La raffigurazione di un tessuto finemente elaborato come simbolo di maestà e di onore è un elemento presente anche in altri pittori del Rinascimento veneziano, quali Giovanni Bellini. Come per gli altri pittori veneziani del tempo, per Catena, il colore e la luce hanno la stessa importanza della composizione. Il contrasto tra il blu e il giallo degli abiti del servitore e il giallo e il viola dell'uomo sulla destra esprimono le capacità coloristiche dell'artista. Sembra che Catena, per un certo periodo della sua carriera, abbia in qualche modo collaborato con Giorgione, che influenzò il suo stile assieme ad altri artisti veneziani, quali Tizzi.